Il Giro di Svizzera è una corsa molto importante dove potrai testare la tua condizione e fare una bella esperienza. Sì, sicuramente è una bellissima corsa, sono percorsi molto impegnativi, molto duri e sono qua per la squadra e quindi speriamo il meglio. C'è tanta salita, ci saranno possibilità di mettersi in mostra, se capiterà l'occasione non ti tirerai indietro? Sì, sicuramente se ci sarà qualche occasione sicuramente non mi tiro indietro. Grazie mille!